Buonasera a tutti, sono le 17 di lunedì 21 ottobre, noi siamo qui questa sera per parlare di coding inclusivo, io sono Simona Bernabei e coordinerò questo webinar e mi fa veramente piacere perché il tema è interessantissimo e le due relatrici di questa sera sono veramente due grandi esperte del tema di oggi, dunque io mi metterei in stand by, anzi mi farebbe piacere che le mie colleghe si mettessero un attimo in video così ci presentiamo, ci salutiamo e poi dopo passiamo a Annalisa, buonasera Annalisa e dovrebbe aggiungersi anche la Francesca se ci riusciamo perché ogni tanto eccoci, eccoci tutte e tre, arriva anche la Francesca Panzica, buonasera a tutte e due e buonasera a tutte le nostre amiche e i nostri amici online. Allora, il webinar di stasera dicevo brevemente che fa parte del nostro piano annuale di formazione regionale, noi siamo il gruppo Twin in Perla Toscana e Annalisa e Francesca sono due ambasciatrici che poi presenterò un po' più nel dettaglio, io sono il referente regionale, il referente pedagogico regionale e dopo questo evento annuncio che ci saranno altri momenti in cui ci incontreremo sia in presenza che online, adesso condivido velocemente con voi gli eventi futuri, questi sono gli eventi diciamo grossomodo da qui alla fine dell'anno, dell'anno solare, questo è il piano di formazione realizzato in collaborazione con USR Toscana e finanziato da Indire, Unità Nazionale e Twinning e dopo questo nostro incontro di questa sera ci sarà un incontro in presenza all'Università di Firenze dedicato al percorso di formazione iniziale dei docenti, poi l'11 novembre ci sarà a Livorno a liceo Cecioni un incontro in presenza dedicato alle Twinning e di inclusione, il 26 novembre a Ponte d'Era ci sarà un incontro presso il liceo Montale dal titolo Twinning nella costruzione di un curriculum verticale e infine almeno fino a dicembre di quest'anno ci sarà l'ultimo dei nostri webinar per quest'anno, quindi sempre qui sui Twinning Live dedicato a dei Twinning per un uso consapevole della rete, comunicazioni su questi eventi verranno inviate dall'USR Toscana alle scuole, ma chiaramente per un'informazione più informale ma sicuramente più veloce vi invitiamo a seguirci su Facebook, sul nostro profilo Facebook Twinning Toscana e poi seguite anche il nostro canale YouTube dove verrà pubblicata la registrazione di questo webinar appena la piattaforma ci consentirà di farlo. Io velocemente, velocemente ho fatto un pasticcio invece di interrompere ho allargato 2000 lo schermo, dicevo parleremo di coding inclusivo e aprirà la serata, il pomeriggio Francesca Panzica che è un'ambasciatrice Twinning come vi dicevo, attualmente è un'ambasciatrice onoraria per la Toscana perché è in pensione dal primo settembre di quest'anno, è una collega che tutti conoscono, grande esperta di TIC e di utilizzo delle TIC nella didattica, credo insomma che non ci sia quasi bisogno di presentazione, presento subito anche Annalisa Di Pierro che è una docente d'inglese dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci Fascetti di Pisa, anche Annalisa come vi dicevo è un'ambasciatrice ed è un'esperta di tool 2.0 per la didattica ed è esperta di didattica immersiva e in realtà aumentata. Ora passerei la parola subito a Francesca che farà una chiacchierata sul coding inclusivo per poi passare la parola successivamente di nuovo a me, cioè riprendere la parola di io e ripassarla poi ad Annalisa. Prima di chiudere il mio microfono e di passare proprio la palla a Francesca letteralmente, volevo invitarvi nel caso voi avesse domande relative all'argomento di questa sera che insomma credo che sia molto interessante, vi chiederei di farla, lasciare le vostre domande e scriverle sul foglio il cui link ho messo sotto foglio domande e in modo tale che, e non nella chat, ma insomma credo che molti di noi seguono spesso i webinar quindi sanno come funziona e per qualsiasi altro dubbio. Sì, eccomi, buonasera a tutti. Allora noi abbiamo pensato l'incontro di stasera in questo modo e immaginando di avere un pubblico in cui ci sono anche insegnanti che magari non conoscono bene l'argomento trattato, si è pensato di fare una prima parte illustrativa in cui si parla un attimo di coding e si mettono i puntini sulle i. Dopodiché sarà molto veloce il tutto se passerò la palla alla collega Annalisa che invece vi parlerà di esperienze realizzate con le sue classi, esperienze di coding con due strumenti che dopo vi presenterà. Quindi mi scuso magari con chi è già preparato sull'argomento, anzi mi aspetto che ci siano anche interventi che in qualche maniera possano arricchire anche la mia presentazione. Allora, le coordinate di fondo in cui ci muoviamo. Innanzitutto il coding, cosa significa? Stesura di programmi informatici tramite un codice. In italiano noi l'abbiamo tradotto con programmare, ovvero organizzare un algoritmo per risolvere un problema. Questo algoritmo può essere pensato a parole con il nostro linguaggio. Ovviamente deve essere scritto però con un codice, ecco il code che viene fuori, che possa essere riconosciuto dal computer. Che cos'è un algoritmo? Parola che deriva dal, ora non so se lo pronuncerò bene perché è arabo, da Al Karismi che è considerato uno dei primi autori ad aver fatto riferimento a questo concetto. Fra l'altro era un matematico, astronomo, astrologo, geografo persiano vissuto nell'850 d.C. ed è, dobbiamo a lui anche l'invenzione tra virgolette della parola algebra. Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso vari step e appunto attraverso vari momenti, passi elementari. Il nostro quotidiano è pieno di algoritmi e di codici. Pensiamo al Bancomat, Whatsapp, tanto per fare un esempio, Facebook, le mail, l'email, quindi noi viviamo ormai immersi nei codici. Il linguaggio di programmazione ovviamente è definito da delle regole precise. Per poter programmare dobbiamo individuare delle regole che permettono ai comandi specifici ovviamente di arrivare all'obiettivo che noi ci siamo posti, generare il risultato atteso. Una cosa da sottolineare quindi a livello didattico è che il coding è una pratica non una metodologia perché a volte le cose vengono confuse. Perché il coding a scuola? Ovviamente l'intenzione non è quella di preparare i futuri programmatori, non c'è mai stata questa idea fin dall'inizio e non è questo l'obiettivo che si deve porre alla scuola. Più che altro il focus va sullo sviluppo di abilità cognitive, su ciò che il coding permette di fare a scuola. Quindi sviluppo di abilità cognitive, lavorare sulla logica, risoluzione di problemi, problem posing, sviluppo di quello che viene ormai definito pensiero computazionale che in sé è un processo sia logico sia creativo alla faccia di chi dice che lavorare con le tecnologie distrugga la creatività. Un processo che permette di scomporre quindi un problema in vari momenti, in varie parti per poterlo affrontare un pezzetto alla volta in modo pian pianino di riuscire ad arrivare alla risoluzione del problema generale laddove è possibile. In sostanza quindi risolvere un problema pianificando una strategia. Ecco che quindi il focus dell'introduzione del coding a scuola non è magari poi tanto quello del risultato che ovviamente è importante anche in questo, ma soprattutto il processo che porta a determinati risultati. Pensiero computazionale, fissiamo anche questo punto. Questo è un termine che è stato utilizzato per la prima volta da una scienziata americana di origini asiatiche, Jeanette Wing, e significa pensare come un informatico, quindi in modo algoritmico e a livelli multipli di astrazione. Non è assolutamente una novità perché chi è abbastanza anziano come me dovrebbe ricordarsi quando abbiamo cominciato tutti a lavorare con il logo, la famosa tartarughina di Pappert che era allievo di Piaget. Nell'ottica di Pappert l'apprendimento è un processo che avviene attraverso il ruolo attivo di chi impara, quindi il bambino deve essere impegnato attivamente ad analizzare, costruire, scomporre, confrontare e poi presentare anche l'oggetto dell'apprendimento. In sostanza imparando a programmare, secondo Pappert il bambino impara soprattutto a pensare. La cosa interessante di tutto questo è che il bambino quindi attraverso il computer, utilizza il computer come artefatto cognitivo, ora non sto a spiegare completamente questo termine che viene fuori molto spesso tra noi docenti interessati all'utilizzo delle tecnologie nella didattica, ossia il computer diventa in sostanza un facilitatore per imparare, per apprendere e soprattutto anche per interagire con gli altri. Quindi il pensiero computazionale è fortemente connesso ai problemi della vita reale e ripeto è un processo logico e creativo insieme, in qualche maniera ci ritroviamo benissimo in quella che è la didattica per competenze. Coding a scuola quindi perché? Per affrontare problemi, riflettere e sviluppare idee attraverso il confronto con gli altri, cosa molto importante che è alla base anche della didattica per competenze. C'è il peer learning, imparare dagli altri, comprendere l'importanza dell'errore. Ecco la pedagogia dell'errore è uno degli aspetti che io ritengo molto importanti nel coding perché mentre normalmente nella didattica tradizionale l'errore è sanzionato è una cosa che non si deve fare, qui invece può essere anche importante sbagliare perché attraverso l'errore è possibile rianalizzare il processo e correggere laddove, a modi cacciavite, laddove qualcosa non ha funzionato nel percorso. Quindi bella la libertà anche di sbagliare in questo caso. Comprendere che possono esistere più soluzioni ad un problema e non una sola soluzione, qui potrei raccontare molto del mio vissuto come studentessa ad esempio. Imparare per prove ed errori alla base del coding, elaborare strategie, pianificare azioni, scoprire ovviamente gli errori. La cosa importante è anche condividere quanto si è imparato perché alla fine c'è sempre un momento in cui i gruppi di lavoro si confrontano e mettono insieme quanto si è imparato. Noi sappiamo che c'è l'ora di coding che è stata inserita dal MIUR proprio per cercare di spingere le scuole ad appropriarsi di questa pratica. In realtà non personalmente, io sono contraria all'ora di coding perché il coding non è una materia in più da aggiungere, ma è semplicemente un'attività trasversale perché è trasversale la competenza che permette di sviluppare. Quindi direi non ora di coding, anche se, apro una parentesi, potrebbe essere utile per persone che si avvicinano per la prima volta a questa pratica. Quindi non ora di coding, dicevo, ma applicazione delle modalità tipiche del coding per descrivere procedure, concettualizzare procedimenti e soluzioni, esemplificare concetti a tutte le discipline, anche a quelle non specificatamente STEM, cioè collegate alla matematica, all'ingegneria e alla tecnologia. Nella mia esperienza ad esempio il coding e poi la robotica appunto sono state applicate alla lingua inglese nella scuola primaria. Coding inclusivo, perché diventa inclusivo? Il coding io lo ritengo un'attività altamente inclusiva proprio per le sue modalità. Diventa inclusivo se per inclusione intendiamo l'organizzazione di un ambiente e le stesse occasioni di apprendimento, di crescita e le stesse possibilità di fare esperienza. Il modello didattico che c'è dietro al coding è quello di tipo cooperativo e metacognitivo. Si fonda su concetti di riflessione, cooperazione, condivisione. La metacognizione e la risorsa proprio studenti, bambini, alunni, diventa la fonte strategica per apprendere. È un modello che vede una bassa direttività da parte dell'insegnante, perché non è l'insegnante che conduce la lezione, l'insegnante è più che altro un regista che cerca di far muovere i gruppi, di gestire i gruppi in maniera tale che possano via via arrivare da soli a quelli che sono i risultati, gli obiettivi dell'attività. All'interno di questo tipo di ambiente è chiaro che ci deve essere un clima classe positivo, un clima classe in cui l'insegnante è anche parte dei gruppi. Ci possono essere anche delle relazioni simmetriche in certi momenti, perché a volte ci sono bambini che fanno scoperte che magari noi insegnanti possiamo sottolineare, ritenere importanti proprio perché sono nati da loro. C'è un'interdipendenza reciproca tra i bambini e soprattutto è favorita molto la discussione, perché per fare coding si deve parlare, parlare tanto, ci si deve confrontare. Ecco perché ritengo che il coding sia uno strumento altamente inclusivo nella didattica. Qui ho messo alcune piattaforme utili per sviluppare il coding. Ovviamente c'è quello di MIUR e Fondazione Cini, programma al futuro che immagino tutti conoscono, code.org, che fra l'altro per chi insegna inglese è anche particolarmente utile perché molte delle attività che propone sono tutte in lingua, quindi è utile utilizzare anche la lingua da questo punto di vista. Code Academy, sottolineo i Coder Dojo che non so se siano conosciuti da tutti, è una parola giapponese, significa palestra di coding, palestra di programmazione. I Coder Dojo sono organizzati normalmente in molte città italiane, da dei gruppi esterni alla scuola e normalmente vengono fatti un sabato al mese e chiedono ai bambini di partecipare portando il proprio device, il proprio laptop, il computer portatile è molto più adatto per questo tipo di attività e una merenda, anche se all'inizio quando sono nati i Coder Dojo la merenda la davano loro ed era normalmente una mela, in qualche maniera ricorda anche il discorso del famoso fisico che è morto, avvelenato da una mela. Può essere interessante per tutti voi scoprire se c'è qualche Coder Dojo anche nella vostra città e magari andare a vedere. Di solito è gestito da programmatori che preparano i percorsi per i ragazzi, viene usato molto Scratch a livello base, mentre i livelli più alti utilizzano dei linguaggi di programmazione molto più elevati, però è molto interessante andare a vedere che cosa possono produrre i ragazzi, veramente cose a livelli molto alti. Faccio riferimento qui anche a Scratch 3.0 di cui vi parlerà però la collega, è una programmazione a blocchi, anche questa. Per saperne di più, l'ultima cosa che dico è questa, esiste un MOOC dell'Università di Urbino che è gestito dal professore Alessandro Bogliolo che penso tutti conoscano come una delle persone più influenti dal punto di vista del coding. Questo è praticamente un corso di formazione pratico al coding gratuito che può essere frequentato in qualsiasi momento dell'anno e che se non sbaglio rilascia anche un attestato, quindi consiglio a chi magari vuol saperne di più di iscriversi e di frequentarlo. Io avrei finito la mia presentazione, passo la parola alla collega che vi farà invece, vi parlerà di esperienze pratiche. Io purtroppo di esperienze pratiche comincio a non averne più visto che sono in pensione per cui sono attenta anch'io e interessata a quello che la collega ci presenterà ora. Vi ringrazio e per il momento vi saluto. Benissimo, grazie Francesca, ti ringraziamo molto degli spunti e qualcuno nelle domande ci chiedeva se le tue slide potranno essere condivise e penso certamente sì, io le invierò via mail alle persone che lasceranno la propria mail nel foglio delle presenze e per quello che riguarda invece i link e i riferimenti, la sitografia torno un po' indietro che tu ci hai lasciato, io ho messo il link del Coder Dojo Italia dove appunto troverete, proprio sulla pagina iniziale, troverete tutta la mappina, la mappina suona strano, ma insomma la mappa con tutti i siti in cui avverranno gli eventi. Quindi io passerei senz'altro la parola ad Annalisa Di Piero, la quale può attivarsi il microfono e interrompo la condivisione così che tu possa caricare il tuo file. Grazie Francesca e iniziamo Annalisa. Giusto il tempo tecnico della presentazione che si carica, ecco qui, io mi spengo il microfono e sparisco. Ditemi se mi sentite e se mi vedete. La tua presentazione, vediamo il cursore che si muove e ti sentiamo bene. Grazie. Grazie. Ok, allora, grazie a Simona e a Francesca per la presentazione per Simona e per l'introduzione per Francesca. Allora, io vi parlerò quindi di questi due programmi, però prima avevo preparato appunto un'introduzione in cui appunto dicevo che il coding non è una disciplina, ma un linguaggio trasversale che fa parte della logica del pensiero, sviluppa il problem solving e la creatività. Quando si danno delle istruzioni ad una macchina per svolgere un compito, allora si mette in atto il pensiero computazionale. Il linguaggio di programmazione permette di creare giochi, animazioni e storie interattive. Quindi il coding promuove l'inclusività perché facilita la collaborazione, lo scambio di idee e il tutoraggio frappari. E queste sono cose appunto che vi ha detto già anche Francesca. Anch'io avevo inserito questi due link nella mia presentazione Code.org e Code Week Italia. Volevo farvi vedere un attimo Code Week Italia, che appunto è questo sito molto interessante dove ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno, potete fare attività, esercizi, insomma è abbastanza, è molto utile. C'è anche quello europeo, però insomma se siamo italiani possiamo anche adoperare quello italiano. Allora, parliamo di Scratch. Scratch quindi è un software, un programma in cui è possibile programmare senza scrivere neanche una riga di codice. E questo ovviamente per tutti i non informatici, tutti quelli che non hanno conoscenza di informatica, è agevola moltissimo. Si dispone però di questi blocchi in sequenza, che ora vi farò vedere. Ad ogni blocco corrisponde un'istruzione che permette di seguire un comando. Quindi il codice si trova dietro il blocco. Ora mi collego al... Ecco, ho scelto, ho creato questa attività da mostrarvi. Ora si carica il progetto. Clicca sulla bandierina verde per iniziare. Io clicco e vedrete questo dialogo tra questi due personaggi. E' anche possibile inserire dei suoni ovviamente. Ora ve lo faccio vedere e poi ne parliamo. Ok, allora, io non so se... Quanti di voi già conoscono Scratch o non hanno mai... Annalisa, scusa, mi intervengo soltanto per dirti se magari puoi provare ad alzare un pochino il tuo audio, perché qualcuno dice che non si sente bene. Ok, ditemi se ti sentite meglio. Ti sentivo anche prima, ma credo che si senta meglio, ti senti più forte. Grazie. Ok, grazie, grazie. Ok, perfetto. Allora, Scratch. Andiamo nella pagina principale di Scratch, nella home page. e da qui potrete ricevere tutte le informazioni, potrete ricevere tutte le informazioni di cui avete bisogno per conoscere questo strumento. E' bene registrarsi, cioè entrare nella community di Scratch e quindi è possibile creare o esplorare. Questa è una funzione molto interessante perché ci sono tanti progetti già creati che si possono guardare e allo stesso tempo, se ci interessano, si possono anche copiare. Ora io ne prendo uno a caso, vi faccio vedere come è possibile. Non mi piacciono. Vediamo questo qui, di che cosa si tratta. Come al solito, sì. Si disturba ancora, prova ad alzare un pochino ancora il tuo audio e dopodiché credo che sia un problema dall'altra parte perché io ti sentivo già bene prima. Magari prova ad alzare un pochino l'audio tuo, per favore scusami. Scusate, riprendo la parola io perché credo che ci sia un problema. Io non vedo più analisa fra i relatori, quindi probabilmente è caduto il collegamento. Spero che riusciamo a recuperarlo, nel frattempo volevo dirvi che qualcuno ci ha chiesto anche se il materiale del webinar, quindi l'audio, il nostro webinar vero e proprio sarà fruibile nuovamente. E la risposta è sì, perché noi stiamo registrando, quindi poi lo pubblicheremo sul canale YouTube E-Twin in Toscana, dove potrete riascoltarlo. Nel frattempo io sto cercando di capire cosa sia successo ad Annalisa. Allora, sono sempre io, sono sempre Simona, Annalisa è scomparsa, quindi un attimo solo di pazienza, cerco di contattarla per sapere cosa è successo. Un attimo. Grazie. 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 Quindi, nel frattempo intervengo io, una cosa che non avevo detto prima, ad esempio, era il discorso del pixel art. Sapete che sta andando molto adesso, mi sentite? Pronto? Sì? Sì, benissimo Francesca, ti sento benissimo. Grazie, sì. Dicevo che sta andando molto nei social attualmente il fare pixel art, praticamente vengono costruiti dei disegni attraverso un codice che poi vengono normalmente colorati dai bambini, è un'attività che vedo fare soprattutto con bambini di scuola primaria. Interessante anche quello, però una cosa che dal mio punto di vista è importante è che sia il bambino a un certo punto dopo a costruire, benvenga magari per le prime volte che sia l'insegnante a proporlo, ma il bello di questo lavoro è che siano i bambini ad inventarsi tra virgolette determinati disegni costruendo loro magari il percorso da proporre poi ai compagni. Ecco, una cosa che non sempre vedo, anche girando un po' per le scuole così, è il fatto di dare in mano ai ragazzi il potere tra virgolette di creare. E sta qui forse anche l'atto creativo di cui parlavamo prima. Bisogna che il ragazzo, così com'è in fondo in tutta la didattica per competenze, sia proprio di questi mezzi e diventi protagonista. Penso che possiamo essere tutti d'accordo da questo punto di vista, no? Anzi, credo, nel frattempo noi stiamo cercando di capire con l'analisa che cosa sia successo, comunque speriamo di risolvere il problema, mi dice che è sparita la connessione. Ad ogni modo, questo è un discorso che vale anche per esperienze fatte con i più grandi e tra l'altro, proprio recentemente, mi confrontavo, io insegno, forse molti di noi ci conosciamo, mi insegno alle superiori e mi trovo davanti ai ragazzi più grandi, ma comunque diciamo con esperienze molto più tradizionali di scuola e mi trovo davanti a delle situazioni, per esempio l'anno scorso ci siamo trovati tutti quanti con una classe in particolare a partecipare al Genova, a Futura Genova e a partecipare a delle esperienze che erano condotte dalla Paola Mattioli, che molti di voi conosceranno, che diciamo lei normalmente, tipicamente fa con i bambini, loro non erano bambini, ma si sono cimentati con un tipo di esperienza che li metteva al centro e che li metteva a confronto con dei problemi concreti e questo per loro è stato un'attività che li ha scatenati, li ha resi creativi, entusiasti e ancora oggi mi dicono, noi rispetto a come facciamo certe cose, lì abbiamo toccato con mano anche la sensazione di essere noi al centro delle esperienze, di non essere voi, ovviamente loro, i ragazzi poi sono gentili anche per questioni diplomatiche, non ti dicono che ci fate la lezione frontale, delle volte ci mandate in letargo, ma eravamo noi a fare delle cose e quindi questo per loro era fondamentale, quindi credo che sia come dicevano sia Francesca che Annalisa, trasversale ma anche verticale, molto molto adatto, poi complicando, diciamo creando una complessità graduale, queste siano attività che si possano fare, anzi si devono fare e ci si diverte, ma anche noi ci divertiamo, per esempio con l'ora del codice, non solo alle medie, ma anche nelle primissime classi, le prime classi del biennio, perché si possono creare delle situazioni sempre più complesse, dei problemi sempre più complessi da risolvere. Dunque, vediamo un po' come è la situazione, ecco l'Analisa è tornata, intanto io ringrazio ovviamente Francesca per l'ulteriore contributo, Annalisa tu adesso dovresti avere il microfono aperto, cioè dovresti… ok, sento che si sta collegando… Ci sei Annalisa? Sì, scusatemi, non so che cosa… mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo Vi sentite? Sì, ti sentiamo Annalisa Praticamente è successo che la connessione… Sì, sì, c'è… Sì, sì, c'è… Sì, c'è… Sì, c'è… il mio modem è scomparsa e quindi ora sono con la connessione del mio cellulare sapete che c'è stato un cattivo tempo da queste parti e quindi evidentemente si sarà interrotto Annalisa tu mi senti? però è tutto molto più lento ditemi se mi sentite bene un attimo di pazienza per favore perché stiamo cercando vorrei capire un attimo una cosa i partecipanti mi sentono ora mentre sto parlando nel senso in tempo reale? Simone Bionda mi dice sì ok perfetto quindi il problema non allora io provo a comunicare provo a comunicare con Annalisa in altro modo un attimo solo ok infatti vedo Brigida che ci dice il problema è con Annalisa ok intanto vi avevo detto se potevate scaricare allora io nel frattempo sto contattando Anna Lisa e le ho chiesto di uscire e rientrare perché probabilmente uscendo e rientrando nella stanza riusciamo a recuperare abbiamo eliminato la webcam ora sì infatti appare la presentazione di Francesca evidentemente lei fa delle cose e c'è un ritardo nella reazione dell'Adobe Connect quindi un attimo di pazienza e purtroppo queste cose accadono come dice la legge di Murphy se qualcosa deve andare male è sicuro che vada male però insomma ne approfitto allora per fare ancora 4 chiacchiere mentre voi vi preparate il discorso dell'inclusione mi piace ricordare una cosa successa con una classe in cui ho lavorato con la robotica educativa era una classe terza in cui erano due classi terze in realtà in cui era un vecchio modulo diciamo in una delle due c'era un bambino che aveva grossi problemi un bambino autistico che con enormi problemi di socializzazione e di inserimento nella classe io siccome amo rovinarmi l'esistenza ho scelto di lavorare proprio con quella classe sulla robotica perché speravo che qualcosa potesse cambiare e in effetti è stato molto molto interessante perché questa modalità diversa di lavorare rispetto a quello a cui erano normalmente abituati questi bambini ha messo in moto delle dinamiche particolari e il bambino autistico stesso che faticava normalmente a seguire le attività in questo caso siamo riusciti a coinvolgerlo e fra l'altro ha dimostrato l'alto potenziale che aveva perché molto spesso lui a colpo d'occhio riusciva ad arrivare al risultato ed era i compagni poi sulla base del suo aiuto erano chiamati a ricostruire praticamente il processo anche per i bambini è stata praticamente una scoperta perché il bambino problematico normalmente problematico quello che con cui non riuscivano ad andare d'accordo in realtà lì veniva conteso tra i gruppi perché era quello che permetteva al gruppo di raggiungere più velocemente determinati risultati questo giusto per raccontare una piccola dinamica che può essere utile per rinforzare ancora di più come il coding possa essere inclusivo ecco è arrivata Annalisa grazie in realtà magari lasceremo un po' di tempo in fondo anche se avete ulteriori osservazioni da fare nel frattempo appunto grazie ancora proviamo a vedere Annalisa ma credo che adesso vada bene perché ti vedo in tempo reale muoverti eccetera prova a procedere se vedete lo schermo adesso direi perfetto schermo audio magari elimina la webcam e procedi grazie sono cose che succedono va bene allora vi stavo dicendo possiamo esplorare ma in questo momento non esploriamo perché già abbiamo perso molto tempo questo era l'attività che avevo creato per voi la guardiamo dentro per vedere com'è fatta ci sono quindi dei blocchi per tutte le per far passo per passo momento per momento per fare sviluppare l'attività abbiamo il blocco del movimento dove appunto ci si può muovere il blocco dell'aspetto in cui si può parlare cioè tramite questi blocchi possiamo far parlare i nostri personaggi il suono perché possiamo inserire dei suoni suoni già stabiliti dalla dalla libreria di scratch ma anche possiamo registrare noi dei suoni possiamo registrare le voci dei ragazzi per esempio dei bambini possiamo fargli dire delle cose registrare la loro voce e poi aggiungerla qui in scratch poi abbiamo le situazioni cioè come avvengono quindi tutti questi movimenti queste azioni dei personaggi il controllo cioè per quanto tempo e quante volte devono avvenire queste loro attività o movimenti i sensori e gli operatori quindi qualcosa di più matematico diciamo poi abbiamo le variabili cioè se vogliamo aggiungere qualcosa che qui non c'è è possibile e poi abbiamo i miei blocchi questo appunto questa versione di scratch è una versione 3.0 l'ultima versione quindi un po' migliorata e cambiata rispetto alla versione precedente che era 2.0 qui infatti ci sono i miei blocchi che sono questi la musica la penna il testo da testo a voce cioè è possibile appunto registrare la propria voce o anche usufruire di una voce già predefinita e poi altre possibilità aggiungere altre attività come makemake microbit lego maenstrom eccetera allora quindi come funziona questi due personaggi che io ho scelto si chiamano sprite e cliccando cliccando l'immagine qui di questo gattino perché il personaggio principale di scratch è il gattino ma il gattino si può eliminare e inserire degli altri sprite allora possiamo scegliere uno sprite dalla galleria di scratch ce ne sono tantissimi possiamo anche sceglierli per categoria animali persone fantasia eccetera per come ci servono e possiamo disegnarli noi qui per esempio possiamo disegnarli noi oppure possiamo aggiungere uno sprite a sorpresa o anche importare uno sprite quindi importare uno sprite dal nostro computer abbiamo poi gli sfondi questo sprite lo cancelliamo perché non ci serve abbiamo gli sfondi cioè l'immagine che si vede di fondo ora queste immagini che avete visto in questo caso le ho aggiunte io perché mi servivano per ecco qui per esempio non ho messo nessuno sfondo perché volevo evidenziare di più la parte dialogata questo sfondo invece che vedete questo simbolo e l'ho aggiunto io come tutti gli altri che vedrete qui è semplicissimo perché appunto si può importare uno sfondo dal nostro computer semplicemente come si fa in tutti gli altri programmi bisogna ovviamente sempre dare questa comunicazione quindi passa allo sfondo che si trova qui in aspetto passa allo sfondo seguente oppure passa allo sfondo mondo rifiuti riuscite a seguire la freccina la mia manina sulla sinistra direi di sì perfetto sì sì leggo le commenti ugualmente si può passare a un costume a un altro costume cioè cosa vuol dire un altro costume qui in alto a sinistra abbiamo costumi allora per esempio per quanto riguarda questo ragazzo questo personaggio qui che si chiama D questo personaggio ha ben cinque costumi cioè cinque atteggiamenti diversi che noi possiamo scegliere e modificare durante la nostra attività a seconda di quello che ci serve in quel momento ok io all'inizio per esempio ne ho scelto uno e poi man mano durante lo svolgimento del dialogo sono cambiati sono modificato all'interno sempre per esempio il primo che avevo scelto se non erro era questo qui posso cliccando su queste freccettine rifletti in orizzontale ecco posso modificare la sua posizione o anche capovolgerlo se mi interessa capovolgere torniamo a quella originale e così per tutti quanti gli altri personaggi allora che cosa come come si costruisce allora il primo partiamo da Abby perché è lei che comincia a parlare allora quando si clicca sulla bandierina verde eccola vedete qui la bandierina verde questo dà l'inizio dell'attività non è detto che si debba dare in questa maniera vi faccio vedere in situazioni l'inizio si può anche dare premendo il tasto spazio la barra spaziatrice o freccia in su freccia in giù freccia a destra freccia a sinistra eccetera quindi sono io che decido come fare iniziare il gioco e lo scrivo nelle istruzioni che avete visto all'inizio così chi vuole cominciare il gioco sa come si deve comportare quali sono i movimenti che deve fare oppure anche quando clicca su questo sprite io posso anche decidere di far partire l'attività cliccando sullo sprite quindi dopo aver cliccato io in questo caso ho scelto la bandierina dopo aver cliccato la bandierina si passa allo sfondo 1 che è questo sfondo bianco dove non c'è assolutamente niente e decido anche Abby questo personaggio si chiama Abby quale degli atteggiamenti deve avere vedete qui ci sono i quattro suoi che Abby ha se vado in costumi ecco vedo i quattro atteggiamenti i quattro costumi di Abby e quindi io ne scelgo uno quello che mi piace di più dopodiché Abby comincia a parlare e quindi vado nella categoria aspetto e scelgo questo blocco dire ciao per due secondi lo aggiungo allora mettiamo che ora io sposto i blocchi più giù e questo lo tolgo e ve lo faccio vedere come lo inserisco lo prendo e lo trascino e lo inserisco qui sotto i blocchi si 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 incastrano uno con l'altro quindi dico ciao e posso fargli dire qualunque cosa ciao ci clicco sopra e scrivo normalmente ciao come stai per esempio e e decido per quanto tempo sarà detta questa per quanto tempo abby dirà questa frase dopodichè attacco gli altri blocchi che avevo già pronti quindi vediamo un attimo clicco la bandierina verde ciao come stai e ancora qui non ora il codice sta andando avanti lo posso fermare cliccando sul sulla pallina rossa allora qui ho fatto ho scelto che questa frase sono qui per parlarti di una cosa molto importante fosse avvenisse per 4 secondi quindi un periodo un po' più lungo dopodichè ho cambiato vedete passa al costume ebd quindi ho cambiato il suo affeggiamento e ho cambiato anche lo sfondo perché ho inserito questo che voi vedete dopodichè l'ho fatta anche muovere vai a x e y allora cosa significa x e y come vedete in questo in questo spazio in questo stage in questo palcoscenico diciamo ci sono per per decidere dove posizionare i personaggi o qualunque altra gli sfondi qualunque cosa ci sono delle coordinate x e y che vi sto segnando ora con la freccetta cioè significa che lo spazio è contraddistinto per nella nella parte verticale dalla y e nella parte orizzontale dalla x immaginate quindi queste due queste due coordinate quindi ebbi in questo momento ebbi si trova a meno 186 e meno 62 che è esattamente questa posizione qui dove si trova lei se io muovo ebbi ecco per esempio qui allora lei si trova in questo momento a meno 100 e meno 58 la riposiziono qui e partiamo di nuovo dall'inizio vi faccio vedere anzi facciamo in questa maniera la metto qui e partendo dall'inizio vi faccio vedere come lei arriverà poi qui a quello che ho scritto io meno 186 meno 62 cioè farà un movimento ecco vedete ebbi si è spostata si è spostata prima era più qua più a destra e poi è andata in questa posizione come è possibile fare questo allora intanto vado a movimento il blocco movimento e le dico ecco qui vai a x prendo questo blocco e lo attacco qui lo attacco qui sotto ok se questo blocco non mi interessa lo prendo e lo rimetto in questa lista di blocchi e viene praticamente cancellato dopodiché appunto ebbi continua a parlare e dice conosci questo simbolo per 4 secondi questo per dare tempo a chi sta leggendo di leggere con più tranquillità si può anche allungare il tempo allora lo fermo un attimo perché quando ebbi dice conosci questo simbolo fa una domanda si aspetta una risposta dall'altro personaggio e allora cosa faccio io invia aggiungo questo blocco invia a tutti conosci questo simbolo e attendi un secondo cioè attendo un secondo che di mi risponda questo blocco invia a tutti questo simbolo lo trovo qui nelle situazioni invia a tutti eccolo qui poi c'è anche quest'altro invia a tutti per esempio invia a tutti e attendi ma comunque io ho inserito l'altro blocco attendi un secondo sotto quindi va bene così e si può fare sia in una maniera che nell'altra che cosa succede di riceverà quando ricevo conosci questo simbolo dirà no che cos'è invia a tutti no che cos'è cioè invia a tutti la sua risposta in questa maniera si può costruire il dialogo quindi inviando delle domande ma anche inviando le risposte o altrimenti si può semplicemente fare tutto il dialogo misurando il tempo i secondi quindi dando il tempo di leggere e anche di rispondere dopodiché Abby continua a parlare quando ricevo no che cos'è quindi la risposta che gli aveva dato di attende un secondo e poi lei continua a parlare vedete qui ci sono tutti i blocchi dire e dire e cambiare atteggiamento e cambiare sfondo ugualmente per di ci sono tutti gli sfondi e tutti i cambiamenti di costume e le cose che lui dice potremmo farlo anche a scuola che ne pensi allora ditemi finora se è chiaro se avete bisogno di qualche altra informazione penso sì penso che sia chiarissimo e ci sono anche state delle osservazioni in chat mentre parlavi per esempio io adesso scorro la chat Maria Teresa Silvone dice che ha realizzato un cartellone con la possibilità di attaccare i blocchi con il velcro così da spostare l'ordine dei blocchi stessi e ci spiega insomma come procedeva per non sovraccaricare gli alunni di troppe informazioni diciamo che no mi sembra che non ci siano problemi nella spiegazione mi sembra che sia molto chiaro puoi andare avanti allora sì grazie ok è possibile anche lavorare in non è necessario essere per forza connessi perché Scratch si può si può lavorare con Scratch anche unplugged cioè si scarica Scratch nel computer dell'insegnante del docente si proietta l'immagine di Scratch nella LIM e i ragazzi possono si tratta di bambini piccoli insomma della primaria che magari non hanno chiaramente con sé un altro computer o un tablet possono lavorare in questa maniera sullo schermo della LIM con il programma della docente che non è necessariamente collegabile con ad internet ma può scaricare il programma di Scratch nel proprio computer volevo farvi vedere che qui era possibile cambiare la lingua da questo mappamondo e comunque ci sono tantissimi tutorial sia sul Scratch che su YouTube per imparare ad usare tutti i vari blocchi che veramente è molto molto facile molto facilitato proprio perché si vuole dare una più ampia diffusione possibile di questo programma vi faccio ora sono già le 6 quindi c'è pochissimo tempo però vi volevo avevo preparato altri ecco qui ci sono se voi andate dal vostro profilo poi le mie cose potete quindi vedere tutti i programmi tutte le attività che avete creato vi faccio vedere per esempio questo della tabellina i ragazzi comunque sono molto più bravi di noi e non hanno nessuna difficoltà a creare e a lavorare con con Scratch questo deve essere una cosa chiara io vedo di anno in anno ogni anno faccio usare Scratch faccio usare altri programmi e vedo di anno in anno la capacità che hanno loro di migliorare di lavorare sono sempre più nativi digitali ovviamente quindi veramente tante volte sono loro che insegnano i modi e Annalisa posso interromperti un attimo per farti una domanda che arriva dalla chat che mi sembra interessante ce ne sono altre poi magari le mettiamo un attimo in coda e questa era un po' diciamo sul pezzo in questo momento Brigida chiede se si può realizzare uno storytelling con Scratch certo io l'ho dato come attività per esempio durante le vacanze di Natale ho dato l'inizio di una storia e poi i ragazzi dovevano continuare adoperando Scratch ecco questo nel 2016 vediamo se riesco a farvelo vedere si clicca sempre sulla bandierina verde per iniziare la storia i ragazzi hanno moltissima fantasia e quindi Scratch è uno uno strumento bellissimo per dare spazio alla loro creatività il l'inizio della della storia che avevo dato era appunto quella ci si trovava in un in un castello in una situazione un po' strana misteriosa e c'era il personaggio principale con un cane e loro dovevano andare avanti e creare poi la loro storia e questo ragazzo ha creato questa storia molto un ragazzo di scuole superiori quindi ha adoperato anche dei dei personaggi insomma abbastanza semplici vi faccio vedere questo invece che è molto più complesso quindi ogni ragazzo per le proprie capacità crea attività animazioni diverse a secondo questo era per esempio un lavoro di gruppo tre ragazzi avevano hanno creato questo progetto che è molto più impegnativo e molto più complesso e quindi è sicuramente uno strumento inclusivo perché ognuno con le proprie capacità con le proprie forze partecipa e si sente insomma anche soddisfatto perché è riuscito a creare qualche cosa di importante e c'è un grande aiuto una grande collaborazione a creazione allora credo che siamo di nuovo in un momento di stallo io farei in questo modo approfitterei e si infatti Francesca ho visto che è sparita la voce approfitterei per aprire qualche per leggere qualche domanda ci sei di nuovo Anna Lisa perché quello più bravo ovviamente aiuta quello che è più in difficoltà perché insomma la collaborazione e la cooperazione è una cosa che i ragazzi fanno molto volentieri questo progetto ha un po' di difficoltà per ricarsi perché allora rientro io niente con la connessione che ho io in questo momento stasera ha un po' di difficoltà però ve lo volevo far vedere perché veramente rispetto a quello di prima che era molto più semplice credo che sia il caso che rientri io perché non si sente l'audio di di Anna Lisa e vi dicevo abbiamo alcune alcune domande vabbè io però vorrei siccome questo non lo sta caricando con questa connessione si sai Anna Lisa perché il tuo audio praticamente non si sentiva più magari ve lo farò vedere qualche altra volta a proposito volevo approfitto di questo webinar per segnalare perché io ho un gruppo insieme con altre due ambasciatrici italiane che si chiamano metodologica in visita ai cinci in cui appunto chiediamo non solo noi ma tutti gli ambasciatori che vogliono come adottare allora come stavo cercando di dire abbiamo una serie di domande che io via via sto leggendo e a parte le domande di carattere diciamo tecnico logistico sulla condivisione di slide e registrazione leggo una domanda per Francesca Francesca ci chiede Nicoletta se tu hai materiale consultabile che sia frutto delle tue esperienze in particolare sulla robotica e io ti giro la domanda e direi apriti il microfono e rispondici per favore ho qualcosa che dovrei recuperare però perché l'esperienza di robotica l'ho fatta tutorando un collega ne ho assunto quindi dovrei recuperare un momentino i materiali ma penso sia praticabile la cosa però dovete darmi del tempo altrimenti ho qualcosa a livello di spiegazione ma penso che a voi interessino di più le esperienze ci sono delle esperienze realizzate da alcune mie colleghe perché l'anno scorso quando ero a scuola io ero distaccata negli ultimi due anni sono stata distaccata come vicaria però ho seguito esperienze di robotica all'interno del mio istituto e avrei un paio di esperienze interessanti che potrebbero essere presentate mi piacerebbe che le presentassero le persone però che le hanno fatte una è un'esperienza realizzata nella scuola primaria un'altra nella scuola dell'infanzia e la terza è un'esperienza realizzata nella scuola media la scuola secondaria di primo grado però dovremmo organizzare un altro incontro ovviamente per poterle vedere sempre che le colleghe siano disponibili a presentarle ma io penso che se questa cosa fosse possibile ecco se le tue colleghe fossero disponibili a presentarle possiamo senza altro organizzare un altro un altro incontro quindi questo senza altro non credo che ci siano problemi insomma per questo ok quindi grazie per questa tua prima risposta ehm Maria Teresa Silvoni ehm lancia diciamo lancia una proposta o comunque chiede se sul coding inclusivo e trasversale alle discipline curricolari ci possano essere visto che le sembra un'ottima idea progettuale da percorrere se ci possano essere idee o proposte in questo senso ora non so Francesca è con noi come ambasciatrice ma non è più nella scuola quindi diciamo che più che altro potrebbe essere una cosa che se volete realizzare eh sicuramente noi possiamo eh potete potete scrivere a noi possiamo mettervi in contatto ma comunque penso che più o meno fra di noi ci si conosca anche per avendo come riferimento i nomi in chat però se possiamo fare qualcosa a noi per mettervi in contatto e se avete delle idee oppure se volete qualcuno di voi eh alzando la mano intervenire io sono ben contenta di darvi la parola quindi ehm insomma siamo aperte a varie opzioni ehm non so se qualcuno abbia voglia di intervenire nel frattempo vedo che ci sono anche altri amici che stanno che stanno entrando ora purtroppo Annalisa mi dice che c'è brutto tempo e quindi non si riesce a riprendere il collegamento ehm sono le diciotto e diciasette io vedrei vedrei ancora se ci sono se ci sono delle domande Francesca nel frattempo tutti puoi aprire il microfono dire entrare quando vuoi ehm che saluto mi dice dove ci chiede dove metteremo la registrazione la registrazione sarà sul canale Twin in Toscana il canale youtube Twin in Toscana e poi penso di inviarvela con insieme alle slide di Francesca che ci hanno alcune colleghe o colleghi ci hanno richiesto sì posso dire una cosa in merito a quell'esperienza realizzata in inglese tutto è partito da uno storytelling da una storia di un'ape perché ovviamente noi abbiamo usato la b-bot da una storia di un'ape che vabbè faceva alcune cose doveva andare in cerca del miele e così via dopodiché la storia è finita e abbiamo fatto arrivare in classe un pacco dall'Inghilterra che conteneva appunto la b-bot con una richiesta di aiuto e praticamente chiedeva ai bambini di risolvere un problema momentaneo che aveva per raggiungere il miele e avere buoni rapporti insomma era legato alla storia che avevamo letto ecco che quindi da quel momento in poi è stata data in mano ai bambini la b-bot senza alcuna spiegazione perché io sono molto per l'apprendimento scoperta praticamente i bambini sono stati divisi in gruppi è stata data l'ape e loro hanno cominciato a osservarla a guardarlo è inutile dirvi che in pochi attimi anche perché insomma erano bambini di terza non proprio piccolissimi ma succede anche con i piccoli in pochi attimi hanno capito si sono resi conto che era un robot che aveva e poteva essere mosso in determinati modi ecco che hanno fatto tutte le loro proprie errori dopo che abbiamo fatto il circle time in cui loro hanno presentato agli altri le proprie scoperte da quel momento in poi abbiamo continuato cercando di risolvere il problema dell'ape e poi hanno cominciato loro a divertirsi e a costruire percorsi da presentare ai compagni praticamente i vari gruppi costruivano e si scambiavano i percorsi costruiti tutto qui insomma era molto molto semplice la collega che cercherò di invitare invece l'ha applicato alla matematica con bambini di prima elementare quindi ha lavorato sulle quattro operazioni ad esempio in particolare mi sembra su addizione e sottrazione con l'esperienza della scuola dell'infanzia è particolarmente interessante perché anche lì si è trattato in qualche maniera di scoperta però lì c'entra un discorso di inclusione perché in quella classe c'era una bambina sulla carrozzina e quindi doveva essere inclusa ovviamente nella scuola dell'infanzia è molto importante che provino anche col corpo quindi era stata costruita una griglia che permetteva anche ai bambini di camminare ed è stata costruita una griglia anche molto grande che permetteva anche alla carrozzina di camminare ecco che anche la bambina quindi ha potuto sperimentare in maniera attiva i percorsi che erano stati proposti beh questa cosa è fantastica non so a me francamente mi sembra anche un po' da pelle d'oca proprio in chiave di inclusione credo che bisognerà riparlarne comunque insomma mi pare di capire che ci sono ci sarebbe spazio per fare un altro webinar portando delle esperienze Anna Lisa è riuscita a collegarsi io direi sì ti cederai la parola a proposito di inclusione volevo dire siccome ho terminato proprio la settimana scorsa la code week è un ragazzino di prima superiore quindi 14 anni 15 anni autistico che si è invece con Scratch si è aperto tantissimo sia ai compagni che con me ha parlato ha interagito con noi in una maniera veramente straordinaria quindi questi sono degli strumenti che veramente fanno miracoli per questi ragazzi perché proprio non si sentono più osservati giudicati lavorano con grande felicità e allegria e producono e mettono in pratica veramente tantissimo di tutto quello che noi insegniamo io di solito ad Opera Scratch ho anche questo altro programma che vi sto facendo vedere Metaverse spero che vi siate scaricati l'app nel cellulare così possiamo fare questa attività insieme e praticamente cioè è veramente una cosa incredibile incredibile l'inclusione io ad Opera stavo dicendo questi strumenti di solito al termine di un modulo sia come revision insomma degli argomenti che sono stati trattati come pratica come esercizio anche per vedere anche per come valutazione perché tante volte io cioè io do sempre dei voti piuttosto che fare un compito scritto preferisco fare un'attività di questo genere perché posso valutare sia le loro conoscenze della materia quindi insegno inglese quindi dell'inglese che altre competenze trasversali allora vi faccio vedere questo sì dovete scaricare l'app di Metaverse e io ho preparato questo gioco che si chiama Game for Retweening e qui c'è questo questo QR code che bisogna guardare con il proprio cellulare una volta che voi avete scaricato l'app ditemi se l'avete già scaricata oppure volete che ve lo faccio vedere che ve lo faccio vedere dal mio cellulare ve lo posso anche far vedere dal mio cellulare altrimenti va bene allora ve lo faccio vedere dal mio cellulare un attimo che collego il mio cellulare con no direi che chi poteva scaricarlo credo che l'abbia scaricata per cui penso che tu possa procedere anche perché sono le 18 e 24 purtroppo il tempo è tiranno quindi io procederei l'immagine del mio cellulare sullo schermo vedete vedete la ditemi se vedete l'app del mio cellulare sullo schermo però non sento più analisa allora vi faccio vedere mamma mia che seccatura si lo vediamo lo vediamo l'immagine è lo screen del tuo cellulare allora vado avanti allora vado avanti allora ecco qua allora questo è Metaverse io apro Metaverse dal mio cellulare e dove c'è scritto scan to code clicco e metto evidenzio il codice si carica e mi fa vedere questo che aiuto stasera non c'è non abbiamo tanta si carica questo è un dialogo praticamente fra chi scrive in questo caso il docente e lo studente che risponde qui sotto si iniziamo io clicco si iniziamo ecco questa è la realtà aumentata vedete nella mia stanza questa domanda quanto fa 7 per 8 e scrivo sotto la risposta e premo next ecco 56 vedete quindi il ragazzo ha risposto correttamente vado avanti next un'altra domanda scrivi un testo hello everybody ok proviamo risponde il ragazzo allora adesso per scrivere questo testo io lo faccio lo scriverò qui al computer ma si può scrivere anche su un foglio ovviamente lo scrivo al computer per comodità e lo faccio una foto dal mio cellulare ora vediamo se mi ha riconosciuto questa scritta ora dipende dalla connessione se me l'ha riconosciuta oppure no si siete mi sentite mi sentite allora eccomi qua di nuovo questa sera veramente le condizioni meteorologiche sono non so non capisco perché la voce va e viene analisa tu mi senti allora allora credo che allora intanto do un'occhiata al foglio delle domande per vedere se allora Loredana ci chiede analisa non so se tu senta la mia voce comunque se non riesciamo a sentirci ti farei un un paio di domande nel frattempo che sono arrivate una da Nicoletta che dice analisa hai condiviso il link con i tuoi alunni per farli collaborare la condivisione online non è ancora possibile perché l'account è individuale quindi se puoi rispondere a questa prima domanda e poi Loredana ti chiede Metaverse funziona anche con i tablet giusto? se ci senti batti un colpo io provo a rirenderti relatore ma non so analisa se è ok sta scrivendo perfetto Loredana funziona anche con i tablet e non ho capito però la domanda di prima che mi hai fatto riguardo lo preparo dal pc certo preparo tutto dal pc preparo dal pc ora vi faccio vedere sono sempre dei blocchi sono sempre dei blocchi che mi permettono di creare una storia grazie a tutti Allora, io però proviamo a fare un ultimo tentativo, poi eventualmente proviamo a vedere se ci sono ancora delle domande e salutiamo anche perché lo slot sta finendo, sono le 18.31, quindi proviamo ancora Annalisa, tu hai il microfono aperto, io vedo, proviamo ancora un attimo ed eventualmente ci daremo un appuntamento per il futuro quando sarà possibile, visto che anche Francesca ci parlava della possibilità magari di coinvolgere alcune sue colleghe nel racconto delle loro esperienze e comunque mi sembra che il comune sentire sia quello di magari iniziare una collaborazione anche con il tempo, diciamo con il filo rosso del coding. Non mi sembra che riusciamo a sentire Annalisa, io a questo punto farei una cosa, ringrazierei intanto tutti quanti per la pazienza, ma insomma purtroppo a volte succede, succede di rado ma succede che i collegamenti siano così scarsi, del resto abbiamo avuto la fortuna di avere una collega come Francesca che ci ha aiutato e ci ha dato degli spunti molto interessanti di riflessione che ha condiviso con noi, resta il fatto che appunto siamo disponibili a ripetere questa esperienza in chiave magari più pratica, nel senso di parlare anche di esperienze con colleghe e anche dare di nuovo spazio ad Annalisa che è stata, diciamo così, ha avuto delle difficoltà. anche per me confesso che il coordinamento di questo webinar è stato piuttosto faticoso e mi scuso se abbiamo avuto degli intoppi, ma chiaramente non è di peso da noi, da nessuna di noi. Direi, ripeto che appunto riceverete le slide e il link alla registrazione sul nostro canale YouTube Twin in Toscana e a questo punto vi ricordo che ci sono gli appuntamenti futuri, soprattutto per quello che riguarda i webinar, magari visto che ci troviamo in campo webinar, parleremo con il webinar di dicembre, parleremo di uso consapevole della rete con Emma Pietrafesa che è una ricercatrice che collabora con Inail e si occupa dell'utilizzo delle tecnologie e del loro collegamento con il benessere, ma ha scritto molto sul tema dell'uso consapevole della rete, credo che sia molto interessante, sia un tema davvero anche questo molto interessante a cui teniamo, non temiamo, teniamo molto. Lucia Iannucci ci dice, ci potete aggiornare per i webinar tramite mail, direi che per adesso utilizziamo il canale della pagina Facebook Twin in Toscana e molto volentieri noi pubblichiamo lì, aggiorniamo la situazione dei nostri eventi e grazie a te figurati, grazie a Giorgio Pontuale che va via anche lui e a questo punto io vi saluterei ringraziando Francesca, se riusciamo facciamo un ultimo saluto e poi chiudiamo il collegamento. Francesca a te il microfono. Sì, io vi ringrazio, mi dispiace per gli inconvenienti, ma ci possiamo dare appuntamento un'altra volta, io intanto cerco di convincere i colleghi. Ringrazio tutti e un caro saluto. Io ringrazio te Francesca tantissimo e vi do i saluti anche di Annalisa che mi sono arrivati via Whatsapp e ovviamente grazie a tutti voi, speriamo di riuscire a continuare questo dibattito, questo tavolo che si è aperto qui oggi pomeriggio, anzi se in qualche modo volete mettervi in contatto ci fa molto piacere di darvi una mano a farlo e anch'io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima occasione. A presto, buona serata.